Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi vi presentiamo un interessantissimo studio effettuato da pochissimo sul laffresco della Cappella di Santa Maria presso il castello di Vicaldi dall'architetta Paola Papalini che ha presentato una nuova ipotesi ricostruttiva degli eventi che hanno coinvolto laffresco presente nella Cappella del Castello e io ho il grande piacere di avere con noi Paola Papalini alla quale lascio subito la parola perché ci parli di questa interessante ricerca. Prego Paola, a te. Grazie Maurizio. L'affresco centrale della Cappella ci racconta una natività, una natività classica con Maria Gesù Bambino, San Giuseppe e Giovannino con l'agnello che è il simbolo della passione di Cristo. Sullo sfondo troviamo un paesaggio locale che ci ricorda la vista che si aveva sulla finestra che venne chiusa proprio per la realizzazione di questa cappella, una bifora ancora visibile sulla parte esterna del castello. Ma la cosa che più mi ha colpito la prima volta che ho visto questo affresco è stato il colore del manto bianco di Maria. Infatti il bianco nelle vesti dell'iconografia mariana è inusuale fino al 1854, anno in cui viene proclamato il dogma dell'immacolata concezione. Prima di quell'epoca gli affreschi che raffiguravano la Vergine erano tutti con abiti scuri a ricordare il lutto di Maria per il figlio o altrimenti erano vesti molto ricche che ostentavano la ricchezza dei committenti. Qui vediamo la Madonnella di Vicalvi che è a pochi passi dal nostro affresco e siamo tra il 4 e il 500. Come vedete abbiamo un manto scuro da cui fa capolino un manto bianco, un velo bianco, la parte più intima. Vedete? Si vede bene la differenza cromatica tra il velo intimo e il manto scuro che era quello delle cerimonie, era quello per uscire. Così possiamo ipotizzare che anche il nostro affresco aveva in origine il manto scuro da cui faceva capolino l'intimo, il velo bianco. È ancora visibile oggi per contrasto cromatico sul frontino e sul décolleté il velo originale molto più chiaro oggi del manto che è il frutto della sovrapposizione di un velo scuro su cui è stato applicato a secco una vernice bianca. Quindi dicevamo solo dopo il 1854 l'iconografia camariana cambia di messaggio. Il messaggio diventa quello della verginità, dell'assenza di peccato originale e quindi anche gli oggetti di scena potremmo dire cambiano. Non avremmo più l'agnello simbolo della passione ma olivi, garofani bianchi, rose, tutti oggetti a ricordare il messaggio di verginità, di purezza, di Maria. Una testimonianza eccezionale di queste oscillazioni del gusto cromatico la troviamo in una statua a linea conservata al Museo di Liegi. La scultura è stata ridipinta varie volte al passo con le mode iconografiche. Quindi abbiamo tutte le mode che hanno caratterizzato le iconografie mariane dalle origini al 1854. In origine le affreschi, le iconografie mariane raccontavano una Maria a lutto, quindi abbiamo detto tutti gli abiti scuri che non era solo il nero che intendiamo oggi ma tutte le cromie con una forte componente di di ombra, quindi una forte componente scura. Successivamente nel 400 esplode la moda del blu lapislazzuli. Nel 600 le vergini sono rappresentate con abiti preziosi e oro, con i manti oro e solo appunto, ripetiamolo, dopo il 1854 compaiono le vesti bianche. Vedete bene come lo scuro del lutto e il bianco dell'immacolata concezione sono due concetti che portano un messaggio religioso, mentre i blu lapislazzuli e l'oro sono sostanzialmente un messaggio profano, sono l'ostentazione della ricchezza temporale dei committenti. Una digressione interessante da fare secondo me è proprio quella sul blu lapislazzuli perché oggi gli abiti azzurri sono considerati ordinari. Quello che a volte chiediamo oggi giorno è che l'abitudine agli abiti accesi è recentissima. Nel 400 esplode il gusto della pietra lapislazzuli, che è una pietra da cui si ricava un pigmento blu molto molto brillante. Quindi i committenti richiedono quel colore che è raro, prezioso, l'unico giacimento dell'epoca conosciuto è in Afghanistan, ma il punto è che quello era un pigmento, una terra adatta a dipingere a freschi e tele, non a tingere tessuti. Quindi nel 400 vedevano le madonne vestite di blu nei quadri, ma non esisteva nessuna donna che indossasse quei colori nella realtà. L'effetto era un po' quello che abbiamo oggi nel cinema con gli effetti speciali. Quello che vedo sullo schermo è plausibile, ma non è reale. Questa digressione ci aiuta un po' a comprendere come le iconografie cambino il loro messaggio nel tempo. Messaggio che può essere religioso, ma ha anche espressione del potere temporale della committenza. Quindi torniamo al nostro affresco. Come dicevo, la cosa che più mi ha colpito è stato il colore del manto. Non sapevo inizialmente che questo aspetto mi avrebbe portato a comprendere l'altra particolarità che colpisce il visitatore odierno, il volto bruno di Maria. Come vedete, le parti più brune sono proprio quelle che ci si sarebbe aspettate più chiare per dare volumetrie e tridimensionalità al volto. Quindi le guance, gli zigomi, il profilo del mento e il profilo del naso. Quindi quello che si può ipotizzare è che si è stato dato un bianco di piombo che ha la caratteristica di ossidare in maniera fortemente localizzata e in maniera non progressiva nel tempo, ovvero una volta ossidato, non progredisce negli anni successivi. Ed è questa una testimonianza che abbiamo diretta e indiretta all'inizio Novecento. Ci hanno raccontato che già all'inizio Novecento, ci sono anche delle testimonianze fotografiche, già all'inizio Novecento il viso e le mani avevano esattamente questa conformazione di scuro. Quindi cosa era successo? Era stato dato un bianco di piombo, conosciuto anche come cerussa, bianco d'argento, probabilmente per un nome più attivante a livello commerciale, su un rosso vermiglione. Il rosso vermiglione è il colore per eccellenza, dal Medioevo in poi, per gli incarnati nelle tele e negli affreschi. Ma sappiamo che il bianco di piombo, dato su certi pigmenti, tra cui proprio il rosso vermiglione, che ha una forte componente di zolfo, in breve tempo ossida, dando vita all'ossido di piombo, che è una sostanza nero-brunastra. Che il bianco di piombo fosse un pigmento difficile da utilizzare lo aveva imparato a sue spese Cimabue, che tra il 277 e il 1283 realizza la crocifissione nella basilica superiore di San Francesco d'Assisi e in breve tempo la vede trasformarsi in qualcosa di simile ad un negativo di una fotografia. Questo perché in quella basilica era presente una forte quantità di umidità e una forte componente solfurea. Ma già questo avveniva a fine 200. Già nel 300 c'è Nino Cennini, nel suo libro dell'arte, che è un manuale per i suoi colleghi pittori, sconsigliava l'utilizzo di questo bianco di piombo dicendo bianco di piombo, è un colore archimiato il quale si chiama biacca. Guardatene quanto puoi che per il spazio di tempo viene nera. Ora, questo era un po' uno slogan ad effetto perché poi nel manuale lui spiega approfonditamente come utilizzare, come produrre questo pigmento, ma soprattutto come non utilizzarlo per evitare gli effetti disastrosi che abbiamo visto. Le sue testimonianze scritte, che è piuttosto unica per il suo tempo, è molto molto preziosa, questo libro dell'arte, perché è una raccolta di ciò che lui aveva imparato indirettamente dalla scuola di Giotto. Alcuni autori attribuiscono un'importanza così fondamentale per le tecniche che si sono sviluppate nei secoli successivi in tutta Europa. Pensiamo ai Fiamminghi, tant'è vero che pittori come Rubens lo usavano il bianco di piombo in maniera magistrale. I suoi contemporanei, con un po' di invidia e ammirazione, dicevano che Rubens aveva un bianco di piombo così bianco che faceva sembrare grigi tutti gli altri bianchi. Quindi non era un pigmento da evitare to cure, era un pigmento che andava saputo utilizzare. Ma perché e quando hanno usato il bianco di piombo sul nostro affresco? Per capirlo dobbiamo fare un salto indietro di circa 150 anni e tornare al momento in cui, dopo la proclamazione del dogma dell'immacolata concezione, Maria cambia d'abito e si avvolge in un manto bianco. L'aspetto che possiamo ipotizzare è qualcosa di simile a questo. Appare chiaro come Maria, un po' per la presenza degli altri personaggi svestiti, come San Sebastiano e Dio Onnipotente raffigurato come un anziano. Un po' per il colore delle vesti di Maria stessa, rosso sbiadito dai tre secoli precedenti, Maria di fatto sembra nuda. Immaginate lo scandalo, siamo a fine ottocento, possiamo ipotizzare che si sia corsi ai ripari cercando di attenuare questo effetto cromatico. Come è stato fatto? Probabilmente così. Schiarendo il volto e le mani della Vergine. Il piede in realtà risultava già sufficientemente contrastato dallo sfondo scuro. Ecco perché, vi dicevo, il colore dell'abito di Maria è così strettamente legato alle origini del colore bruno del volto. Quindi, dopo tutti questi passaggi, credo sia importante un riepilogo. Vediamo che viene dipinto nella seconda metà del Cinquecento un affresco classico, canonico. Maria indossa delle vesti a lutto per la morte del figlio a rimarcare la passione di Cristo. Quello era il messaggio centrale dell'affresco. Nella seconda metà dell'Ottocento la sensibilità religiosa cambia e si sente il bisogno di schiarire le vesti di Maria per portare un nuovo messaggio di assenza di peccato originale e verginità. Ci si rende immediatamente conto che Maria, vestita in questo modo, sembra nuda e viene recuperato questo effetto con del bianco di piombo. Forse non sapendo che tre secoli prima per gli incarnati era stato utilizzato proprio il rosso vermiglione. O forse in quel momento era l'unico pigmento che avevano a disposizione fatto sta che nel giro di poco tempo le mani e il volto diventano brune assumendo l'aspetto che conosciamo oggi. Ora, questa è un'ipotesi che come per ogni ricerca scientifica avrebbe bisogno di una conferma strumentale quindi dopo la formulazione dell'ipotesi sarebbe necessario procedere con la validazione e sperimentazione sul campo in questo caso con un'analisi chimica non invasiva per capire come e se intervenire. Questo è il mio augurio in quanto la tutela di un bene passa anche e soprattutto per la sua conoscenza conoscenza non solo degli addetti ai lavori ma anche di chi quel bene lo vive ogni giorno. Grazie. Grazie mille Paola per questa illustrazione che in realtà è stata qualche giorno fa presentata presso proprio un evento presso proprio il castello dove è presente questo affresco dove è presente poi ci sono presenti anche molti altri punti di interesse di questo castello. io sto proiettando adesso una mappa del castello dall'alto quindi che è visibile da Google questo perché questa mappa è stata realizzata per un progetto che si chiama pacumino.quare.it e che permette ai visitatori del luogo di accedere, di visitare questo castello tramite un QR code quindi permette di accedere a dei contenuti interattivi quale è appunto una mappa dove ci sono i vari punti di interesse nel particolare, nello specifico qui è dove si trova la cappella appunto che è stata descritta c'è una breve riscrizione c'è un collegamento che vedremo a breve con tutta la riscrizione di quanto è stato appena detto poi ci sono delle contenuti diciamo multimediali quindi che permettono di vedere come dove si trova questa cappella piuttosto che abbiamo caricato tutte le foto che sono state presentate poco fa appunto dall'architetta questo perché per permettere sostanzialmente ai visitatori anche non accedendo all'interno del castello questo perché questo sito non è sempre accessibile ultimamente stanno aprendo diciamo le alcune visite guidate ma se uno si trova per caso su questo castello può troverà all'esterno un pannello questo pannello che è stato realizzato qualche anno fa in collaborazione sempre con l'amministrazione comunale dove tramite i vedersi QR code è possibile accedere per esempio alla mappa che abbiamo appena visto piuttosto che a dei video a delle foto traduzioni in inglese voci narranti bibliografia essenziale per approfondire i testi che sono presenti in questo sito questo è un cartello fisico presente proprio all'esterno del castello e che permette quindi al visitatore di godere diciamo del bene dal proprio smartphone magari ascoltando la voce narrante mentre guarda il maniero dove magari ecco vedere delle delle parti del castello difficilmente visibili come per esempio o accessibili come per esempio viste dall'alto piuttosto che viste l'interno delle feritoie piuttosto che in posti diciamo appunto difficili da raggiungere ecco qui abbiamo la la cappella che abbiamo appena descritto c'è una latrina in alto posta molto in alto eccetera questa è la pagina del appunto del sito del castello di Vicaldi che qui potete vedere diciamo dall'alto ma ci sono come dicevamo anche altri contenuti sono foto quindi abbiamo caricato anche le foto presenti presentate diciamo poco fa ma questo non nasce da per questo per questo sito ma ha una visibilità più ampia nel senso che ci sono diversi siti che sono stati mappati nel territorio quindi ci sono altri castelli per esempio a due chilometri di distanza anche meno c'è il castello di Alvito dove anche qui c'è una mappa quindi c'è la mappa del castello medievale con tutti i vari punti di interesse e quindi qui si può sempre approfondire con viste sempre dall'alto piuttosto che video in questo caso dove abbiamo collaborato con dei rievocatori storici che hanno dato tridimensionalità ovviamente alla storia di questo castello riportando in vita alcuni personaggi storici che appunto hanno abitato questo questo castello in al momento sono il sito calcominoquare.it è oggi in gestione da parte di Storia Live questi sono i siti attivati c'è una mappa che permette di visualizzare i vari siti all'interno della valle dove ci sono torri ci sono castelli ci sono palazzi ducali e la cosa interessante e importante è che tutti questi comuni presenti in questa valle hanno condiviso soprattutto nel Medioevo una storia comune in quanto erano possedimenti della stessa signoria Dede Aquino e Cantelmo e questo quindi lo scopo un po' anche del sito è quello di oggi di ricollegare questi siti tramite questo portale e rendere fruibile ai visitatori tutti questi contenuti per un po' ricollegare in termini moderni quella che era la storia a tutto il Medioevo dove appunto i signori dominavano tutti questi territori questo viene anche un po' incontro a quello che è stato l'auspicio l'augurio dell'architetta dove ci ha sostanzialmente indicato che la valorizzazione di un bene non passa solo per la fruibilità e la visibilità degli addetti ai lavori ma anche di chi questi beni poi dopo li visita quindi siccome questi siti questi castelli in realtà molto spesso sono non accessibili per diversi motivi tramite questo portale è possibile quindi anche a questo punto non essendo diciamo sul luogo quindi anche da tutte le parti del mondo quindi basta avere un accesso a internet dal proprio smartphone è possibile accedere a questi contenuti io ringrazio ovviamente l'architetta ringrazio Italia Medievale che ci ha permesso di presentare questi contenuti e vi invito quindi a visitare il nostro sito grazie io ringrazio tanto Matteo Mazzenga e l'architetto Paola Papalini per aver contribuito a far conoscere questo interessante progetto sia di ricerca che di valorizzazione di un bene comune che può interessare a tutti gli appassionati di Medioevo e non e vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale Youtube dove troverete tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi grazie a tutti e a presto a presto non possa altra tempesta io non volesse tessere per dirne filare turbi del vinco madre che se lo viene forte la testa fa scaldare turbi del vinco madre e non lo temperare che se lo viene forte la testa fa scaldare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti